Si tratterebbe di una testimonianza molto dettagliata, secondo la cui ricostruzione il corpo di Jessica Lattuca, la 27enne favarese scomparsa dallo scorso 12 agosto, si troverebbe al cimitero comunale di Favara. Per la sparizione della giovane mamma, la testimone coinvolgerebbe terze persone estranee alla sua famiglia e all'ex compagno, Filippo Russotto, la cui posizione nel frattempo si è aggravata. L'attendibilità di questa testimonianza sarebbe al vaglio degli inquirenti. E' questo quanto emerso ieri nel corso della trasmissione Rai la vita in diretta, che dopo le recenti novità sul giallo di Jessica Lattuca, torna ad occuparsi del caso. L'ultima novità riguarda proprio queste testimonianze che sarebbero state fatte da una donna che si direbbe a conoscenza di particolari, come appunto l'obbligazione del corpo, sulla scomparsa di Jessica. Secondo quanto fatto emergere dalla giornalista Emilio Orlando, che afferma di essere stato lui a raccogliere le presunte dichiarazioni della donna, questa farebbe nomi e cognomi di persone coinvolte nella vicenda. Qualora la testimonianza fatta si rivelasse fondata, è stato detto negli studi del programma televisivo in onda su Rai 1, il corpo della 27enne sarebbe stato tenuto a lungo nascosto e poi spostato al cimitero di Piana Traversa. Anche il padre di Jessica, in varie interviste, ha di recente citato il cimitero come uno dei luoghi dove potrebbe trovarsi il corpo della figlia. In collegamento, ieri c'era la mamma di Jessica. La signora Giuseppina Caramanno ha detto di essere andata a controllare al cimitero, non appena presa la notizia, ma di non avere trovato nulla. Sono distrutta, ha poi aggiunto. Non si parla più di una ragazza viva, si parla di una ragazza morta. Cinque mesi e mezzo che Jessica non torna più a casa. La posizione di Filippo Russotto, l'ex compagno della 27enne scomparsa, si aggrava. Sarebbe indagato anche per maltrattamento in famiglia e occultamento di cadavere. La signora Caramanno dice di sperare che Filippo non sia coinvolto nella vicenda. Spero, anche quando mia figlia la troverò morta, ha detto Giuseppina Caramanno alla vita indiretta, che sia un estraneo ad averle fatto questo. Il fratello di Jessica, Enzo Lattuca, difende Russotto. Per me non è stato lui, ha affermato all'inviata Lucilla Masucci. E' dal primo giorno che dico che non c'entra mio cognato Filippo, non c'entra con la scomparsa, bisogna vedere altrove. Di diverso parere, il padre della scomparsa, che interrogato sul possibile coinvolgimento di Russotto, ha detto di non fidarsi più di nessuno.